La domanda sorge spontanea. Può un uomo che si definisce professionista comportarsi invece come un bambino dispettoso e antipatico, che si nasconde dietro a storie Instagram senza avere il coraggio di dire in realtà le cose in faccia o anche davanti a un microfono? Libero dal contratto con l'US Avellino, Oliver Kragol ha deciso di passare la sua domenica, calda e probabilmente noiosa, rispondendo alle domande che gli sono arrivate dai tifosi sul suo profilo Instagram. E allora il tedesco ha deciso che la sua avventura in bianco-verde non è continuata perché non sanno trattare chi non si capisce i professionisti, salvo poi sottolineare che il suo sfogo non era diretta ai supporter, ai quali augura il meglio, ma alla gestione calcio. La chiama così in un italiano che non è certo il suo forte. Il senso, scrive, è che quando vuoi salire in B devi fare tutto per farcela, pensate voi quello che può significare. Il santone di Wolfsburg dice anche che la colpa di quello che è successo l'anno scorso e di tanti è poi da anche un consiglio ai nuovi arrivati, ovvero stare attenti a qualche agenzia che affitta casa e a gente che fa di tutto per rubare qualche spiccio. Una polemica di bassa lega, volgare e fuori luogo, che ha spinto il titolare dell'agenzia Solo Fitti, Gianluca Russo, a rispondere attraverso un lungo post sui social nel quale ribadisce che ad Avellino i professionisti sono stati sempre amati, difesi e coccolati e che chi è un uomo vero lascia sempre un bel ricordo. Ma Russo, che nella sua agenzia ha le maglie dei vari titolari dello scorso campionato e anche di quelli del passato, rivela che la casa affittata a Cragole era diventata uno zoo puzzolente e pieno di rifiuti e che la proprietaria aspetta ancora che le vengano corrisposti i danni. Sui social, intanto, i commenti continuano a inondare il web, con il popolo bianco-verde che si sente chiaramente offeso e umiliato, anche perché per Cragole era stata chiesta anche la riconferma da parte di tanti, essendo ritenuto uno dei pochi meritevoli di attenzione nella rosa dello scorso campionato. Le realtà si sbagliavano, di sinistri come il suo se ne trovano pochi nel calcio italiano, ma di uomini migliori di lui, davvero molti di più.